La Becca Paschel, prima stagione in Coppa del Mondo, tanta carne al fuoco, come ti approcci a questo salto qualitativo, questo salto di vita anche così importante per te? Ci stiamo preparando bene, mi trovo molto bene in questa squadra adesso, siamo tutti assieme, c'è un bel clima, posso ancora imparare tanto, adoro Elisa e mi dà una bella motivazione. Che cosa hai imparato da loro? Segreti ne hanno tanti, sono piccoli, sono grandi, però sono tanti piccoli e particolari che a loro hanno permesso di fare la differenza. Basterebbe copiare, verrebbe da dire. Quello è vero, al poligono puoi imparare tanto da loro, dalla velocità e tutto, però anche sull'isci devo lavorare ancora tanto. Torniamo alla stagione scorsa, al podio in iWCup, le medaglie, le quattro medaglie ai campionati del mondo giovanili. I campionati del mondo giovanili, prima devo dire perché poi sono youth, chiamiamoli nel modo corretto. Un passaggio importante, ti aspettavi di essere già così competitiva e quindi a quel punto poi è arrivato tutto il resto come una logica conseguenza, tra cui l'approccio alla squadra. No, non me l'aspettavo. Facevo il mio lavoro come sempre, è andato benissimo, ho continuato come sempre tutte le gare e poi sono venute anche le vittorie. Rebecca, c'è un bel nugolo di giovani, l'Italia ha bisogno perché le nostre campionesse non possono vincere in eterno, ci bisogna di un ricambio, ci siete tu ma ci sono anche le tue compagnie di squadra nazionale pronte a dare il cambio che serve. Siete consapevoli di tutto ciò? Sì, siamo consapevoli, stiamo guardando avanti fino alle Olimpiadi del 2026 da noi. In casa, proprio a casa tua. Sì, e speriamo che va avanti così. Su cosa lavorerete in prospettiva? Il risultato immediato non è ovviamente il vostro obiettivo, bisogna crescere e farlo nel giusto modo ma senza perdere tempo perché ovviamente il livello è sempre più alto e le giovani degli altri paesi non stanno di certo lì ad aspettare a guardare voi. Sì, stiamo lavorando come sempre, il livello diventa più alto per quello dobbiamo lavorare molto più e sì, coordiniamo così. Grazie Rebecca Passle. Grazie. Grazie a tutti.